Musica Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, dunque l'11 giugno è stata fissata la data per le elezioni amministrative e parecchi comuni in cui si va a rinnovare il primo cittadino del Consiglio Comunale anche a nord-est ci sono 4 capologhi di provincia, Padova, Verona, Belluno e Gorizia ma c'è anche una serie infinita di comuni minori ma comuni di altrettanta rilevanza in cui si va alle urne e come Padova, Comune Commissariato, torna al voto anche Abano Terme dopo le incresciose vicende legate al sindaco appena letto Luca Claudio che è finito in carcere in una questione legata a delle tangenti accusa per cui ha anche patteggiato una pena Quindi Abano torna alle urne, sono 7 i candidati che si propongono qui con noi questa mattina ne abbiamo uno che è Stefania Chiarelli Buongiorno e benvenuta Buongiorno, grazie Di Abano Viva, che è una lista civica Già il nome della lista civica Abano Viva implica che questa località è importante purtroppo, nonostante le vicende che l'hanno fatta salire agli onori della cronaca nazionale vuole ripartire Assolutamente sì Abano è una città meravigliosa voglio partire con una cosa che può sembrare banale ma in realtà Abano ha delle potenzialità incredibili è una città bellissima con il turismo, le terme ha un contorno, un contesto geografico meraviglioso i collegani, merita tantissimo Abano purtroppo ha vissuto una pagina molto triste ma vogliamo andare avanti Lei tra l'altro è doveroso farlo sapere non solo agli elettori di Abano ma insomma anche ai cittadini Lei nella scorsa tornata elettorale era in una delle liste di appoggio all'ex sindaco Luca Claudio e indubbiamente i fatti contestati sono stati certificati eccetera eccetera ma quello riguarda la magistratura ma come sono stati questi anni di gestione di Claudio perché poi in città sembra assurdo ma si evidenzia ancora ha ancora una certa fiducia e soprattutto lei invece come ha letto questo episodio visto che in qualche modo facendo parte di una lista che lo appoggiava evidentemente c'era insomma del riconoscere delle capacità Allora io ho fatto parte di una lista ero candidato consigliere comunale e di una lista d'appoggio è stata una partecipazione abbastanza marginale ma qualcuno che mi conosceva mi ha chiesto di partecipare di farmi parte attiva per fare qualcosa per la mia città e io ho dato la mia disponibilità in questo senso poi su quello che è successo io non posso entrare nel merito io non sono mai stata in amministrazione in realtà quello che è successo che si presume che si sta accertando che è stato ammesso l'ho letto sui giornali niente altro posso dire posso sapere quello che posso dire è che c'è voglia di guardare avanti di imparare dal passato nel senso che certi errori non vanno sicuramente ripetuti abbiamo voglia però di guardare avanti di dare una chance a questa città che ha tanto da dare che ha preso veramente uno schiaffo anche a livello di immagine infatti volevo proprio chiederle questo quanto è importante per chiunque poi diventerà sindaco e è importante che anche tutte le altre forze politiche collaborino a rifare l'immagine di questa località che è la prima penalizzazione poi se non sbaglio anche visto che è una località turistica che stava cercando di rilanciare il bacino tervale in una visione nuova e dinamica magari anche l'eco internazionale non è dei migliori non so si è sentito da parte dei turisti lo scotto di questo eco oppure è un dato politico che non interessa a nessuno poi di fatto magari i servizi ci sono perché anche durante il commissariamento l'amministrazione è andata avanti l'amministrazione ordinaria è sicuramente andata avanti di certo non è stata una bella pubblicità per Abano questo è indubbio quindi c'è bisogno di ridare una veste la veste che merita in realtà quindi va rilanciata l'immagine di questa città che vive fondamentalmente di turismo non ci dimentichiamo però che Abano è una città dove abitano 20.000 abitanti e quindi insomma attenzione innanzitutto al cittadino tra l'altro se non sbaglio sono sempre di più i padovani che lasciano la città la città del santo per andare a vivere in mezzo ai colli eugani Abano è proprio così alle porte e quindi c'è questo flusso di residenzialità che si sposta verso la vostra città e tra i punti del suo programma c'è anche la previsione di organizzare dei servizi proprio perché Abano sempre di più diventa una città viva turisti sì chi si fa le cure termali sì chi cerca le spa sì ma c'è anche una fetta che aumenta di residenti certo allora quello che noi non vogliamo è proprio che Abano diventi una città dormitorio effettivamente molte famiglie giovani anche si stanno spostando verso la zona dei colli è comprensibile io sono di parte ma insomma trovo che sia meraviglioso abitare lì posso confermare pur essendo nata da un'altra parte è veramente bello è veramente bello va valorizzato però non deve essere un dormitorio ripeto i servizi ci devono essere ci sono vanno potenziati vanno implementati quindi i servizi anche alle famiglie giovani proprio per questo fenomeno è importante garantire strutture a servizio dell'infanzia quindi asili scuole strutture sportive senza dimenticare poi gli anziani cioè la popolazione la comunità va servita quali sono i punti principali del suo programma la molla che le hanno detto se mi candido a sindaco noi abbiamo messo al centro del nostro programma il cittadino pur senza dimenticare che Abano è una città turistica termale quindi vive di turismo però Abano è degli aponensi quindi Abano va gestita con il cittadino al centro quindi come dicevo prima molti servizi per il cittadino vanno implementate le strutture va dato ascolto a quelle che sono le esigenze del cittadino il cittadino del centro di Abano il cittadino di tutte le frazioni di Abano perché noi parliamo sempre del centro e delle frazioni non dimentichiamo che il centro è una delle frazioni di Abano quindi gli aponensi sono anche quelli di Monterosso di Giarre di tutte le frazioni di Feriole di Monteortone quindi vogliamo unire veramente la città deve essere unica con attenzione alle esigenze delle varie parti della città si diceva prima appunto che siamo l'avamposto dei Colle Eugane che tipo di relazione bisogna anche stabilire quando si è primo cittadino di un comune che per forza di cose secondo me deve interagire con i primi cittadini degli altri comuni per creare anche da un punto di vista turistico se vogliamo una sinergia una rete alla luce anche della discussione in corso sui limiti, il perimetro del Parco dei Colle è un'area molto vivace che si trova a fronteggiare da una parte questioni ambientali antropizzazione questioni turistiche insomma non è un'area di facile gestione anche perché poi sotto molti punti di vista ultimamente ha un po' perso gli elementi di direzione certo allora quello che noi desideriamo è lavorare anche in sinergia con i comuni che ci stanno vicino non dobbiamo alzare delle mura attorno a noi ma dobbiamo essere consapevoli che viviamo in un territorio che va valorizzato nella sua interezza quindi benvengono le collaborazioni con gli altri comuni nell'interesse unico che è di tutti di rilanciare il nostro territorio sotto tutti i punti di vista non solo turistico ma anche della vivibilità dei cittadini penso per esempio alla viabilità ciclistica che va implementata va completata per permettere di rendere raggiungibili tutti i posti meravigliosi che abbiamo attorno e questo non si può fare solo all'interno del nostro comune ma in sinergia con gli altri e quali collegamenti invece con Padova? anche qui il principio è lo stesso il principio è quello di collaborare con i comuni che ci sono vicini con tutte le altre amministrazioni nell'intento di camminare in un'unica direzione che è quello di far crescere tutto il territorio quindi i confini non ci devono essere ci deve essere massima collaborazione con tutte le altre amministrazioni sappiamo che il cuore economico della città sono le imprese alberghiere sono le strutture termali strutture che per anni sono state magari anche un po' abbandonate adesso piano piano stanno riprendendo stanno riprogrammandosi con delle iniziative ma non tutte magari ce la fanno che tipo di piano ha in mente proprio per rilanciare anche l'impresa ricettiva del territorio insomma il consorzio degli albergatori l'idea che abbiamo noi di amministrazione è quella di un'amministrazione aperta all'ascolto delle esigenze delle categorie economiche quindi massimo ascolto nei confronti degli albergatori dei commercianti per cercare di capire quali sono le loro esigenze e andare al loro incontro quello che può fare hanno già anticipato qualche problematica stiamo in questi giorni in realtà dialogando con loro per delineare nel dettaglio quello che è il nostro programma che naturalmente è già definito nelle linee essenziali però stiamo facendo un lavoro di ascolto capillare che cosa è emerso nell'ascolto appunto degli operatori commerciali ed economici come richiesta più pressante che cosa vi stanno comunicando che cosa vorrebbero l'esigenza è quella di un rilancio proprio dell'immagine in questo momento quindi la necessità di dare un'immagine all'esterno di Abano di una località ancora attraente e capace di portare turismo quindi quello che possiamo fare come amministrazione è per esempio dare la massima offerta in termini di eventi di manifestazioni in modo da rendere attraente la nostra città e naturalmente una città bella pulita decorosa non è solamente un luogo bello in cui abitare ma è anche un luogo bello in cui i turisti hanno voglia di venire di rimanere più a lungo sfruttando quelle che sono le offerte delle strutture alberghiere comprando nei nostri negozi e poi hanno voglia anche di ritornarci c'è anche un fenomeno che è il pendularismo di chi anziché andare al mare con la bella stagione si organizza una giornata un fine settimana alle terme anche se magari abita a 10 km dalle terme in questo senso che tipo di servizi state approntando le manifestazioni gli eventi possono essere un richiamo appunto per gli short i weekend brevi oppure per la toccata e fuga alcuni abbonensi stessi passano dei weekend nelle strutture alberghiere per stare nelle spa e trovo che questa sia una cosa molto bella ne parlavo proprio l'altro giorno sì addirittura dormono fuori sì c'è chi attraversa la strada va a dormire in un albergo dove c'è la piscina la spa si fanno tutti si fanno coccolare e poi la domenica sera è un chilometro zero un benessere a chilometro zero esattamente trovo che sia un'idea molto carina no è vero c'è anche questo fenomeno nuovo diverso di questo turismo mordi e fuggi però ecco la nostra idea di amministrazione è proprio di far venire voglia al turista di andare oltre quella che è la struttura dell'albergo e in modo che si trovi in una città bella e che abbia tanto da vedere non solo ad Abano ma anche in tutto quello che c'è attorno e che abbia voglia di rimanerci anche più a lungo perché ultimamente si è manifestato questo fenomeno per cui il turismo è più mordi e fuggi non più i 15-20 giorni di una volta ma forse se offriamo un qualcosa di più anche a livello di amministrazione il turista voglia di rimanere un po' di più magari invitare gli albergatori a giocare un po' più sulle promozioni renderle un po' più appetibili perché un po' l'immagine che si è avuta nel tempo di Abano e anche di tutto il bacino termale che fosse un paese per vecchi perdoni l'insolenza invece bisogna catalizzare anche i giovani anche perché il benessere diventa una coccola anche per i giovani c'è un'inversione di tendenza o questa inversione riescono a farla soltanto i grandi alberghi quelli che hanno una storia alle spalle quindi intercettano anche una clientela a prescindere dell'immagine o meno di Abano ma c'è un desiderio di rilanciare anche verso un turismo più giovane e quindi invogliare anche a dei weekend o a delle giornate di benessere di bellezza e qui sta anche all'amministrazione comunque offrire delle manifestazioni delle serate indirizzate ad un pubblico più giovane ma in realtà tutti quanti perché un evento bello allegro che richiami anche quella che è la nostra cultura la nostra storia anche è non gastronomica noi abbiamo dei percorsi storici culturali anche turistico-religiosi quindi assolutamente trasversali credo che ci sia posto per tutti lei diceva che il vostro il vostro obiettivo è l'ascolto quindi il programma si basa essenzialmente sull'ascolto delle esigenze di chi vive chi vive e lavora ad Abano e ascoltando i cittadini perché ovviamente quando si fa parte di una lista civica si vive in un territorio lei credo che sia incontrando le persone si è capito che per per fare campagna elettorale è la propria faccia che bisogna mettere sul piatto prima ancora di essere eletti in questi incontri che ha con la cittadinanza con gli aponensi quali sono le richieste principali i commenti che ha registrato allora la cittadinanza parte da un momento di grande delusione e quindi ha voglia però di andare avanti e questo trovo che sia un atteggiamento molto positivo in realtà le richieste che ci fanno sono molto semplici i cittadini vogliono una città pulita vogliono delle strade in ordine vogliono i marciapiedi senza buche la mamma vuole poter andare con il passeggino sui marciapiedi senza dover fare slalom le persone diversamente abili vogliono poter andare in giro per la città senza trovare degli ostacoli e per loro anche un dislivello nell'asfalto è un ostacolo insormontabile ci chiedono una città pulita ci chiedono una città sicura quindi noi abbiamo in mente di implementare la videosorveglianza in entrata e in uscita nelle strade anche nei parchi che ultimamente sono stati oggetto di atti vandalici importanti e quindi dare delle strutture attrezzare i parchi per i bambini dare dei luoghi di aggregazione in realtà chiedono delle cose molto semplici ma per la quotidianità per poter vivere bene cose molto semplici che spesso magari non si possono realizzare per mancanza di fondi qual è la situazione perché ovviamente un candidato sindaco un'idea si fa di quello che andrebbe a trovare qual è la situazione economica del comune di Abano allora io non sono mai stata in amministrazione per cui con certezza la situazione è un comune in sofferenza Abano comunque ecco questo no e noi comunque abbiamo un programma realizzabile non abbiamo progetti da campagna elettorale vorrei dire quindi non grandi opere pubbliche ma piccoli interventi utili alla quotidianità è un po' questo il ma quello che ci chiedono comunque è questo è avere una città sicura e pulita e dignitosa decorosa in cui vivere e lei ha un sogno da realizzare per la sua città un'idea nuova che può essere anche una manifestazione di manifestazioni e di eventi ne stiamo pensando tantissimi proprio nell'idea di rilanciare anche verso un turismo giovane ma anche per gli stessi giapponesi per gli abitanti delle città vicine abbiamo voglia di un Abano viva chi vorrebbe portare ad Abano in modo che Abano diventasse la sede di quell'evento che poi diventa un brand si dice così un brand che poi automaticamente crea un percorso volano chi vorrebbe vedere ad Abano ma io trovo che Abano possa essere la sede ideale per degli eventi e delle manifestazioni che richiamino quella che è la sua cultura quello che è è il suo contesto anche geografico quindi noi pensiamo molto a percorsi che valorizzino anche i colli eugane che abbiamo intorno la nostra anche le terme stesse naturalmente non dimentichiamo l'essenza il fango più efficace d'Europa assolutamente sì però il fango non è solo benessere e salute il fango è turismo e vorrei riallacciarmi a questo per indicare anche un altro progetto che abbiamo legato alle terme che è quello della geotermia noi abbiamo pensato di sfruttare la geotermia per riscaldare gli edifici pubblici senza l'estrazione dell'acqua termale ma utilizzandole solamente il calore quindi utilizzando il calore presente naturalmente nel sottosuolo è possibile riscaldare gli edifici pubblici con una spesa relativamente contenuta che verrebbe ammortizzata in pochi anni e quindi poi le spese del riscaldamento sarebbero completamente azzerate e le risorse comunali così risparmiate potrebbero essere impiegate per altri bisogno e questo sistema si può estendere a tutti gli edifici di Abano poi anche privati volendo? Il discorso del privato è privato per cui poi l'iniziativa è del privato naturalmente però dove il comune può applicare questo principio può anche lanciare un'idea indubbiamente sì c'è già qualcuno che l'ha fatto ecco compatibile assolutamente emissioni zero quindi grande attenzione per l'ambiente e per le risorse economiche del comune io ringrazio Stefania Chiarelli abbiamo esaurito il tempo a disposizione il candidato sindaco di Abano Terme per la lista civica Abano Viva e adesso vi lascio ad un intervista ad un comico di Made in Sud che ce ne racconta delle belle lo abbiamo raggiunto telefonicamente subito dopo questa intervista la pubblicità e poi un altro ospite un altro argomento grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti